bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi oggi siamo qui a parlare di fortnite e voi direte xuder perchè stiamo parlando di fortnite perchè ragazzi ieri 8 novembre ieri pomeriggio o ieri mattina non lo so è uscita la patch 1.8.2 che non è proprio una roba che va lasciata inosservata è una patch che inserisce delle cose molto interessanti per noi giocatori free play di fortnite ma anche fa capire l'impegno del team a migliorare questo gioco anche per computer che non sono propriamente da gaming ma diciamo sono nella media voglio ricordarvi ragazzi intanto che fortnite è un videogioco ancora in anteprima vi ricordo l'uscita ufficiale in realtà è per il 2018 anche se se ne parla da lontano 2012 è stato fino ad oggi scaricato da 20 milioni di giocatori quindi sono davvero tantissimi beh ragazzi nella patch la prima cosa che ci è saltata all'occhio l'avete vista anche nell'intro ragazzi è l'introduzione di una nuova non è una carta di un nuovo oggetto leggendario il cespuglio ragazzi per chi ha seguito la live ieri pomeriggio lo abbiamo trovato veramente divertentissimo praticamente il cespuglio nasconde il giocatore e gli fa assumere un aspetto di un vero e proprio cespuglio se noi non abbiamo l'arma in mano e stiamo immobili con il cespuglio ovviamente lo dobbiamo usare saremo un cespuglio guarda te guarda te però vi ricordo che il cespuglio in realtà non è infinito cioè viene distrutto quando il giocatore viene attaccato viene colpito e anche dagli effetti della tempesta qualora rimanesse appunto fuori dall'area di gioco lo si può trovare molto tranquillamente nei forzieri e nelle consegne dei rifornimenti che vengono date a random nella mappa ma non è tutto qua ragazzi l'aggiornamento questa è la roba pochettino più interessante hanno anche modificato il negozio stagionale che è praticamente il nuovo negozio di oggetti che si possono acquistare per la battaglia reale la modalità quella non free di Fortnite il negozio stagionale l'abbiamo già sicuramente visto ci offre dei deltaplani, dei costumi e degli strumenti per la raccolta unici nuovi tra l'altro ragazzi ogni livello cioè a gruppi di livello potremo sbloccare le abilità di acquistare dei nuovi oggetti piano piano che incrementiamo il nostro personaggio nel dettaglio ragazzi a livello 5 sbloccheremo un attacco aviotrasportato per il deltaplano dobbiamo vedere ancora bene che cos'è a livello 15 si sblocca il costume da milite d'assalto a livello 20 ancora un costume l'incursore rinnegato mentre a livello 35 invece avremo una skin per il piccone che si chiama vendetta dell'incursore quindi sono proprio incursori questi qua volevano proprio mettere delle cose inerenti vi ricordo prima di andare avanti nel video però ragazzi di fare un mega super sforzo e lasciare un bel like anche se vi sta piacendo questo tutorial non tutorial questa spiegazione relativa alla patch e se vi piacciono le live dedicate a fortnite un bel like e mi raccomando iscrivetevi al canale hanno fatto anche delle modifiche alle armi ragazzi adesso è stata diminuita allora è stato diminuito il tempo in cui il tempo che passava tra quando avevamo l'arma in mano e quando la usiamo mirando prima era 0,4 millisecondi adesso è 0,2 quindi più reattivo a mirare hanno invece modificato hanno ridotto i danni inflitti dal fucile pesante in base alla distanza con il quale si colpisce un bersaglio il 100% dei danni se si rimane entro i 7 metri e 68 il 70% dei danni fino a 18 metri il 20 fino a 30 mentre non fa danno superiore ai 41 metri di distanza però giustamente non è un fucile da cecchino ci sta che non fa così male tra l'altro e hanno anche eliminato quel piccolo bug che c'era che praticamente ci faceva raccogliere le armi da terra anche se non avevano le munizioni loro hanno preferito toglierlo modifiche anche per l'interfaccia utente ragazzi hanno aggiunto l'avrete vista sicuramente una barra di scorrimento per la lista delle sfide giornaliere quella che vediamo sulla sinistra nella home page principale del gioco e nella schermata di caricamento non viene più mostrata la scritta giocatore singolo modifiche anche ragazzi al controller se per caso usiamo un joystick per giocare a fortnite ed è il mio caso io faccio controller e mouse per sparare con il mouse per muovermi col controller praticamente hanno inserito una configurazione che si chiama professionista del combattimento praticamente si deve andare a settarla dalle impostazioni di gioco hanno invece migliorato come vi avevo già anticipato le prestazioni generali del gioco che viene un po' scaricato dalla pesantezza che poteva portare su alcuni computer hanno ottimizzato il rendering delle ombre per appunto incrementare generalmente le prestazioni cioè voi lo sapete una delle cose che pesa tanto a livello di grafica e a livello di prestazioni su un computer è appunto l'ombreggiatura di tutto quello che vediamo che a voi sembrerà niente ma in realtà è un bel processo per il nostro computer adesso l'hanno un pochettino ridotta hanno anche migliorato i calcoli della visibilità degli oggetti per un miglioramento appunto generali di rendering quindi possiamo vedere magari leggermente più sfocato un oggetto da lontano ma questo ci servirà tantissimo per avere uno scarico a livello di prestazioni usate a livello di risorse usate dal computer hanno migliorato di nuovo il rendering delle foglie ragazzi è un gioco ambientato dove c'è un sacco di verde credetemi che per come sono i dettagli aver fatto un aggiornamento una sistemazione su ogni singola foglia è veramente una cosa molto importante per il nostro computer e hanno ridotto anche i rallentamenti che potevano succedere nel gioco durante il precaricamento l'ultima modifica ragazzi e poi vi sguinzaglio via felici sono le sfide giornaliere appunto l'abbiamo già detto prima hanno praticamente oltre ad averle inserite hanno risolto anche un errore che assegnava ai giocatori il premio relativo al completamento di alcune sfide senza però averle completate non so se a voi è successo purtroppo a me personalmente no beh ragazzi io spero che vi abbia un po' schiarito le idee sulla patch che è uscita ieri vi ricordo di lasciare un bel like di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in live ciao ciao